Si chiama Adam Hollingsworth, a Chicago è noto come il Dreadhead Cowboy e quest'uomo è andato a scappare a cavallo dalla polizia in autostrada. L'inseguimento è stato ripreso dalla televisione. L'uomo ha scatenato il panico in sera al suo cavallo cercando di seminare i lavoranti della polizia per un inseguimento nei suoi riguardi durante l'ora di punta di Dan Ryan Expressway, sulla Dan Ryan Expressway. Il cavallo calappava ad una velocità costante, giusto e equilibrata, più di 10 miglia all'ora raggiungendo picchi addirittura di 15. Alla fine però è stato preso in costo da diregente e di polizia, mentre il cavallo stava in una zona vicina piuttosto erbosa, piuttosto densa di vegetazione. L'uomo, 33 anni, a lui era stato intervistato dal New York Times, ha dichiarato di avere ben 4 cavalli di cavalcani in città per Chicago per promuovere un messaggio di piena e totale, quindi unità, unità statale dello Stato, del Paese, della città. Grazie. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video oggi. Ripeto, l'uomo si chiama Adam Hollisworth, ma a Chicago è chiamato anche il Dreader. Ciao a voi. Ciao, il video termina, a quel prossimo video.